Armi improprie di Italo Cremona è uscito per Inaudi nel 1976 ed è un libro prezioso perché raccoglie molti scritti diversi dell'artista, il quale aveva una produzione come critico, come scrittore, come polemista anche mi viene da dire, molto nutrita, molto colta, intelligente. All'interno di questo volume c'è in particolare la raccolta di una rubrica che a me è molto cara che Cremona pubblicò all'interno della rivista Paragone, Paragone Arte di Roberto Longhi. La rubrica si intitolava Cettilene ed era diversa dai grandi saggi della storia dell'arte che quella rivista ha pubblicato. Era invece una specie di piccola spigolatura sul mondo dell'arte, sulle parole che vengono spese dagli artisti stessi, dai critici, dagli addetti lavori. È davvero un modo diverso per guardare alla produzione artistica anche prendendo un po' le distanze dai tic, le consuetudini, le forme mentali un po' troppo banali che spesso assediano anche il nostro mondo. In particolare c'è un brano di questa rubrica che forse è l'autoritratto in forma di parole fatto da Italo Cremona che fece molti autoritratti pittorici. Questo autoritratto parla di se stesso come di una creatura che in qualche modo vuole stare a parte rispetto al mondo. È un brano dedicato ai pre-Raffaelliti e alla loro scarsa fortuna presso il pubblico del Novecento, almeno per tutta la prima parte del secolo. Italo Cremona si immagina di stare all'interno di questo dipinto che è realizzato da William Hunt e si intitola Il risveglio della coscienza. Ecco c'è un dettaglio, Cremona è un pittore di dettagli, sotto un tavolo c'è un gatto e Italo Cremona scrive in questo brano delle volte la mia coscienza sta a conversare molto volentieri con quel gatto nero sotto il tavolo e parla di se stesso e della sua anima, del suo spirito d'artista, riferendosi a se stesso con il termine dimensione ennesima. Ecco la mia dimensione ennesima dice sta molto bene, molto volentieri a conversare con quel gatto. Ecco in questa affermazione c'è tutto il desiderio di stare al di fuori delle logiche più tradizionali o forse delle logiche più in luoga delle mode culturali del Novecento, scegliere una situazione marginale, restare sotto un tavolo. Però io credo che questa mostra che abbiamo realizzato con Giorgina Bertolino e Daniela Ferrari sia la mostra che riconosce che è venuto il momento per quello che sta accadendo nell'arte contemporanea di oggi di dire a Cremona che è bene che esca da sotto quel tavolo e riportare la sua opera, il suo lavoro, le sue pagine come questo libro sul piano del nostro tavolo, reinserirlo all'interno della nostra riflessione culturale odierna.